Benvenuti a Little Motor, benvenuti in via Cardinal Massaia 5, via Stradella 82, dove troverete vetture nuove, chilometri zero, vetture aziendali e vetture d'occasione. In più la possibilità di finanziare anche l'intera cifra, piccolissime le rate mensili comprensive di assicurazione, incendio, furto e atti vandalici. Andiamo a scoprirle insieme. E cominciamo subito con una Fiat Panda 1269 cavalli allestimento Weights City Cross, con tantissimi optional, tra cui il Bluetooth, i comandi al volante. L'autoradio sarà vostra, pensate, a soli 11.400 euro, con un risparmio dal listino che supera i 4.000 euro. E continuiamo con un Abarth 595, 1.4 turbo, 160 cavalli allestimento pista, full, full optional. Qui a Little Motor a soli 20.900 euro. Jeep Renegade 1120 cavalli allestimento Sport, con cerchi in lega e climatizzatore, saranno vostri a soli 16.900 euro. Lancia Ypsilon 1269 cavalli, euro 6, nuove a chilometri zero, potrete scegliere il colore, pensate, a partire da soli 9.400 euro. Vetture complete di climatizzatore, di Bluetooth, di comandi al volante, avete capito bene il prezzo, 9.400 euro. Super sportiva e full optional, parliamo di Abarth 595, cabrio, 1.4 turbo, 180 cavalli allestimento Competizione, sarà vostra a soli 24.900 euro. Jeep Compass, un 2.0 multijet, 140 cavalli allestimento Night Eagle, navigatore satellitare, telecamera posteriore, cerchi in lega da 18 pollici e tantissimi altri accessori, a soli 30.900 euro. Fiat 500L, 1.4, 16 valvole allestimento Popstar, con cerchi in lega da 17 pollici, con climatizzatore, con Bluetooth, con sensori parcheggio, con fendi nebbia, un'autovettura realmente full optional, qui a Little Motor a 14.500 euro. E ancora 500X, 1.6, 110 cavalli allestimento Popstar, sempre con cerchi in lega, sempre con climatizzatore, sensori parcheggio, telecamera posteriore, a soli 15.900 euro. Jeep Renegade, 1.6 multijet, 120 cavalli allestimento Longitude, dal climatizzatore ai cerchi in lega, ai sensori parcheggio, ai fendi nebbia, al Bluetooth, nuovo a chilometri zero, qui a Little Motor a soli 18.900 euro. E passiamo a Fiat Tipo, 1.4, 16 valvole, 5 porte, con climatizzatore, navigatore satellitare e cerchi in lega. Vetture aziendali che hanno percorso pochissimi chilometri, che porterete via, pensate, a soli 11.900 euro. Vetture in garanzia ufficiale della casa madre, ma non finisce qui, con un solo euro, un solo euro, potrete avere anche il GPL compreso. Un solo euro per avere l'impianto GPL e per poter usufruire della promozione di Talmotor comprensiva di assicurazione incendio, furto e atti vandalici. Jeep Compass 1.4 turbo, 140 cavalli allestimento Limited, dal cerchio in lega da 18 pollici, agli interni in pelle, al navigatore satellitare, qui a Little Motor, a soli 24.900 euro. Avete capito bene il prezzo, 24.900 euro. Jeep Compass, garanzia ufficiale della casa madre. E continua la straordinaria offerta su Fiat Panda. Parliamo di Panda, 1.2, 69 cavalli, euro 6, tutte climatizzate, tutte nuove a chilometri zero. Garanzia ufficiale della casa madre, le porterete via a soli 7.390 euro. Ma non finisce qui, anche in questo caso con un solo euro. Un solo euro avrete anche l'impianto GPL compreso. E in più la possibilità di usufruire della straordinaria promozione di Talmotor, comprensiva di assicurazione, incendio, furto e atti vandalici. Il tutto compreso nella rata. Fiat 500, 1.2, 69 cavalli, allestimento lounge, l'allestimento più bello, qui a Little Motor, vetture aziendali che potrete portare via a partire da soli, 9.900 euro. Jeep Compass, 1.6 Multijet, 120 cavalli, climatizzato e con cerchi, lega, sensori, parcheggio posteriori, sarà vostro a 22.900 euro. Abarth 595, 1.4 turbo, 145 cavalli, nuove a chilometri zero, qui a Little Motor, 16.900 euro. Passiamo a una Fiat Tipo, un 1.3 Multijet, 95 cavalli, euro 6, nuove a chilometri zero, con climatizzatore automatico, con sensori parcheggio, bluetooth, cruise control, saranno vostre a soli 11.900 euro. Avete capito bene il prezzo, 11.900 euro, vetture nuove a chilometri zero, euro 6. Fiat 500X, 1.6, 110 cavalli, con impianto GPL, quindi con 5 anni di esenzione e bollo, sarà vostra nuova a chilometri zero, a soli 16.900 euro. E ancora una volta, promozione Panda Weights, City Cross, 1.269 cavalli, euro 6, qui a Little Motor, a partire da soli 11.400 euro. Fiat Tipo Station Wagon, 1.4 Turbo, 120 cavalli, allestimento S-Design, sarà vostra, pensate, a soli 16.900 euro. E in chiusura voglio ricordarvi la straordinaria offerta su Fiat Tipo, 5 porte, 1.4, 16 valvole, tutte con navigatore satellitare e cerchi in lega, vetture aziendali che hanno percorso pochissimi chilometri e che porterete via a soli 11.900 euro. E ancora Fiat Panda, 1.269 cavalli, euro 6, tutte climatizzate, nuove a chilometri zero, saranno vostre a soli 7.390 euro. O piccolissime le rate mensili, comprensive di assicurazione, incendio, furto e atti vandalici. Tutto questo dove? In via Cardinal Massaglia 5, in via Stradella 82, da Italmotor, vi aspettiamo da lunedì al sabato. Ciao!